Musica 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 Insaziavo che mi condigio attraverso la storia romana fino ai paletossi di oggi quando occhi. Poi entrando nella grotta, scorgendo nella te, nella povertà del bambino, una nuova fragranza di vita, quella della semplicità, chiediamoci Ho davvero bisogno di molte cose, di ricette complicate per vivere? Perché? Riesco a fare a meno di tanti contorni superflui per scegliere una vita più semplice? L'uomo è diventato avido e vorace, avere e riempirsi di cose pare a tante il senso della vita, un'insaziabile ingordigia attraversa la storia umana, fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere.